Benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo le anticipazioni dell'episodio della promessa di sabato 20 luglio. Scopriremo cosa contiene la lettera di Don Carlos a Candela e se Margarita riuscirà a scoprire la trappola nel contratto di Lorenzo. Assisteremo alla nuova sceneggiata di Ximena e infine avremo una grande sorpresa con un ritorno inaspettato. Non perdetevi nessun dettaglio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nulla e se vi piace la promessa lasciate un like a questo video. Cominciamo. Margarita sta quasi per firmare il contratto quando improvvisamente entra Catalina nella sala e le chiede se lo ha già firmato. Margarita risponde che stava per firmarlo in quel momento ma si è interrotta per il suo ingresso. Catalina risponde con un bene e l'avverte di non firmare fino a che non abbia controllato tutto come si deve, dato che suo padre, il Marchese di Lujan, era stato ingannato dal capitano Lorenzo con una clausola riguardo a un prestito. Margarita accetta il consiglio di sua nipote e chiede pazienza perché intende esaminare il contratto con calma e maggiore attenzione. Catalina lascia la sala lanciando uno sguardo di soddisfazione al capitano. Dopo una più attenta lettura, infatti, Margarita scopre la clausola in cui Lorenzo avrebbe il diritto di ricomprare la sua parte della promessa, ceduta a Margarita, entro 30 giorni per un prezzo irrisorio di solo mille pesetas e Margarita sarebbe obbligata ad accettare l'offerta. Margarita è sorpresa dall'inganno di Lorenzo e Alonso, ma i due negano di essere stati a conoscenza di quella clausola. Lorenzo ovviamente mente sapendo di essere stato beccato con le mani, è proprio il caso di dirlo, nella marmellata, mentre il Marchese è effettivamente estraneo al complotto contro sua cognata. Margarita, molto cauta e astuta, dice che terrà il contratto con sé per rivederlo con calma. Alonso interviene, dicendo al notaio che il contratto dovrà essere riscritto senza errori né clausole ingannevoli. Quando Lorenzo e il notaio lasciano la sala, Margarita accusa Alonso di essere coinvolto nell'inganno nei suoi confronti, ma suo cognato risponde di non averci nulla a che fare e ricorda di essere stato ingannato anche lui. Inoltre, quelle terre non sono più di sua proprietà, quindi non avrebbe avuto alcun tornaconto nell'ingannare Margarita, anzi, il Marchese si congratula con la madre di Martina per essersi dimostrata molto più astuta del capitano, sia al tavolo da poker, sia davanti al notaio. Infine, prima di andarsene, Margarita confessa al cognato che è felice che lui non facesse parte dell'inganno contro di lei. Nella zona del servizio, Candela legge la lettera del suo amato, il maestro Don Carlos, che la sta lasciando perché ha deciso di trasferirsi a vivere con sua figlia a Gihon, ma senza di lei. Don Carlos confessa nella lettera che sarebbe stato molto egoista da parte sua separarla dalla sua famiglia, che è la promessa, eccetto Petra, e farla vivere con sua figlia Casilda, con la quale probabilmente non andrebbe d'accordo. Arrivano Mauro e Lope e le chiedono cosa ci faccia ancora al palazzo. Candela, affranta, se ne va e Simona racconta tutto. Secondo la cuoca è meglio così, perché vivere con la figlia del maestro sarebbe finito come il rosario dell'aurora. Nel frattempo, Candela racconta tutto a Romulo e a Pia. L'assistente di cucina è molto afflitta e dice che si è ritrovata senza fidanzato, come non poteva essere altrimenti. La governante e il maggiordomo le offrono il loro sostegno. Candela li ringrazia e dice che ciò che la rende più felice è restare e vedere crescere Dieghito. Pelaio passeggia per il giardino con la signorina Catalina e la signorina Martina, raccontando come è andata l'impresa delle marmellate, nonostante gli ostacoli posti da Donna Cruz. Nel frattempo, nel palazzo, la Marchesa parla in privato con Lorenzo per chiedergli spiegazioni riguardo a quanto accaduto con il notaio. Nulla al mondo infastidisce di più Donna Cruz del fatto che sua cognata ottenga il 25% della tenuta. Lorenzo dà la colpa a Catalina, ma la Marchesa gli dice che è stato beccato come un bambino che ruba caramelle e non deve incolpare Catalina, poiché è lui a non essere abbastanza uomo da saper risolvere la faccenda con Margarita. Inoltre, molto agitata, gli dice di fare ciò che deve per impedire che Margarita ottenga quelle terre, minacciandolo che sarà lei stessa a dire a tutti che ha perso a poker contro una vedovella. Il capitano, preso nell'orgoglio, rimette in riga Cruz facendole rimangiare le sue minacce. Le dice di non essere né il primo né l'ultimo ad aver perso una fortuna per un colpo sfortunato. Poi, mentre se ne va, lascia intendere di aver accettato la perdita. Il Marchese Don Alonso sta prendendo il tè con suo figlio nel giardino. Sembra che Manuel sia assorto nei suoi pensieri. Inoltre, il giovane è ancora molto angosciato per tutto ciò che è successo con Ximena. D'altra parte, dice a suo padre che il suo matrimonio non è mai stato così idilliaco come quello tra lui e Cruz, al che il Marchese risponde che non dovrebbe idealizzarlo così tanto. Infine, suo padre gli consiglia di andare avanti e non tormentarsi con il passato e Manuel gli confida che sta seriamente considerando di tornare alle competizioni con l'aereo. Don Romulo chiama Mauro nel suo ufficio per chiedere un parere sull'andamento del servizio e suggerimenti per migliorare l'organizzazione. La convocazione nasconde l'intenzione di Romulo di iniziare a formare Mauro come maggiordomo, cosa che Mauro accetta con entusiasmo, considerandolo un grande privilegio. In cucina, Pia torna dalla casa di Benni, la moglie del mugnaio, visibilmente triste per aver lasciato lì Dieghito. Tutti la incoraggiano e Simona le assicura che il bambino sarà ben curato. Nel frattempo, al piano nobile, la Marchesa e il Marchese prendono il tè con Ximena. Donna Cruz racconta di un'amica, Piluca, che vive a Vienna e, temendo lo scoppio della guerra, cerca di far trasferire suo marito a Madrid. Il Marchese rivela che Manuel sta pensando di tornare alle competizioni con l'aereo, scatenando la furia di Lady Bugiarda e Donna Cruz. Ximena, fingendo difficoltà a respirare, ha degli spasmi e sviene tra le braccia del Marchese. Abel confessa a Ana di essere felice di restare alla promessa, ma si lamenta del comportamento della Marchesa nei suoi confronti continuando a fare la vittima. Prendendola per mano, le dice di essersi innamorato e le propone di fidanzarsi. In quel momento, Maria Fernandez arriva di corsa a cercare il medico per assistere Ximena, che ha appena inscenato il suo svenimento. Margarita racconta a Catalina ciò che è accaduto con il notaio, ringraziandola per il suo intervento. Dice che il capitano ha cercato di approfittare di lei perché è una donna ed è vedova. Catalina risponde che Lorenzo ha fatto lo stesso con suo padre, nonostante non sia una donna, ma è il capitano ad essere un uomo senza scrupoli. Margarita confessa che da quando è morto suo marito Fernando, si è resa conto che il futuro suo e di sua figlia dipende solo da lei. Tra zia e nipote sembra nascere una buona sintonia. Dopo che Margarita se ne va, Catalina incontra Don Pelaio. Gli racconta che grazie al suo intervento, sua zia Margarita non ha perso un mucchio di soldi. Pelaio rimane colpito dalla saggezza della figlia del Marchese. Poi Catalina propone di fare pubblicità per le marmellate sulle riviste. Nel cortile, mentre Petra sta stendendo i panni della Marchesa, arriva Pia e le chiede se il regalino senza nome per Diego fosse suo. Petra non vuole ammetterlo, anche se Pia sa che è suo e le dice che è un gesto molto bello, che le fa onore. Inoltre, le dice anche che è ancora in tempo per cambiare atteggiamento, proprio come sta facendo Felisiano. In quel momento Petra salta su furiosa, dicendo che tutti stanno facendo il lavaggio del cervello a suo fratello. Ana arriva con un vassoio di cibo all'hangar e il signorino Manuel fa una pausa dal suo duro lavoro di martellare una barra di ferro sull'incudine e inizia a mangiare la mela che Ana gli ha portato. È allora che il signorino coglie l'occasione per raccontarle che ha chiesto di nuovo alla Marchesa di Ramona e di Dolores. Ana gli fa notare che sua madre nasconde qualcosa di grave e inoltre gli racconta che Lady Bugiarda ha avuto qualche ora fa una crisi d'ansia ed è stata assistita da Abel. Manuel, essendo così occupato che non esce mai dall'hangar, non era nemmeno a conoscenza e in quel momento esce di corsa per vedere cosa sia successo alla povera Ximena. Più tardi, quella sera, la signorina Martina parla con Curro e gli racconta che il capitano ha cercato di ingannare sua madre con una clausola trappola. Curro le risponde che suo padre è un arrogante e un meschino. Inoltre le propone di prendere qualcosa insieme ma Martina gli dice che è un po' stanca e si ritira. Nel frattempo Felisiano va a trovare Petra e le porta un braccialetto fatto da lui. Lei non lo accetta perché è ancora arrabbiata e ha un'aria orgogliosa. Felisiano si scusa per non essersi comportato come avrebbe dovuto ma non si pente di tutto ciò che hanno discusso. Petra gli dice che sta facendo un grosso errore ma lui risponde che ha il diritto di sbagliare e qui Petra risponde che sì è vero che ha il diritto di sbagliare ma poi lei sarà lì per consolarlo quando gli spezzeranno il cuore in mille pezzi. Infine quando il signorino Curro stava per ritirarsi nella sua stanza incontra sua sorella Hana nel corridoio che gli dà una notizia. Ramona è stata ritrovata. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie scrivete voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie! Grazie!